Nella nostra redazione, qui a tuttomercatoway.com, è venuto a trovarci Claudio Merlo, ex giocatore della Fiorentina, protagonista dello scudetto Viola 68-69, ma anche ex giocatore dell'Inter e in testa alla classifica. Ci sono proprio Fiorentina e Inter. Che effetto ti fa, Claudio? A me fa l'effetto bellissimo per la Fiorentina. Nell'Inter non mi importa proprio niente. Io con l'Inter non ho dei buoni ricordi, però queste due squadre giocano due giochi proprio differenti. Uno gioca proprio un calcio così difensivo e parte in contropiede. La Fiorentina gioca un calcio detale dove diverte tutta Italia, vince, ma vince sempre con una voglia impressionante. perché quando gioca diverte e fa gol e giochiamo sempre in verticale, che questa è una cosa molto importante. Invece l'altra squadra si basa tutta sulla difesa, perché Mancini ha fatto la difesa forte, centrocampo robusto. L'attacco c'è la forza, però quando segna un gol dopo per le altre squadre diventa difficile. Ecco, però è strano, perché Mancini da giocatore era tutto classe, colpi di tacco, tecnica. Vedere una sua squadra che gioca per puntare all'1-0, fondamentalmente è strano. Il calcio, il tifoso, l'importante è vincere. Poi se giochi bene o giochi male non gli interessa. Vinci lo scudetto e vinci sempre 1-0 giocando male. Io ci metterei la firma, però lui che ha pensato di fare una difesa fortissima, con poi tutti i giocatori atleticamente forti dal centrocampo. E poi avanti effettivamente c'è dei grandi giocatori, però fino adesso non l'ha sfruttati al massimo. Però è prima in classifica, dall'altra parte invece trova una squadra completa, la Fiorentina. La Fiorentina può puntare allo scudetto attraverso le sue armi, attraverso il gioco, attraverso anche una rosa che probabilmente non è all'altezza sia numericamente che qualitativamente rispetto all'Inter, rispetto alla Roma, rispetto al Napoli? Ma forse noi abbiamo meno giocatori importanti in panchina rispetto al Napoli, rispetto all'Inter, ma fino adesso abbiamo dimostrato che siamo all'altezza, se non superiore a queste squadre qui. Perciò noi possiamo andare avanti benissimo, sperando che fino a giugno stiamo in queste posizioni. Poi quando arriverà a gennaio, se siamo in queste posizioni, sicuramente la società farà qualcosa. Chi è che ti stupisce in particolare della Fiorentina? Ad esempio Bernardeschi, te l'aspettavi che potesse dare un contributo di sostanza? Anche lui che è un giocatore tutto classe, tecnica. Bernardeschi, io l'ho allenato da piccolino e già si vedeva perché c'aveva già dei colpi, era un bravo bambino, aveva la passione del calcio, perciò si vedeva che poteva uscire un buon giocatore. Ma mi ha stupito con quanta facilità giochi in Serie A, perché ha fatto un grande campionato di Serie B, ma la Serie A non è come la Serie B, ci vuole classe, ci vuole continuità e lui tutto questo lo sta dando come se avesse giocato per tanto tempo in Serie A.